Ancora un corpo è stato restituito dal mare dopo il naufragio a largo di Steccato di Cutro. L'89esima vittima è stata trovata a largo di località Praia Longa, di Isola Caporizzuto, avvistata dall'equipaggio di un peschereccio che ha avvertito la guardia costiera, che ha poi recuperato il cadavere con una motovedetta. Il corpo è stato poi portato nel porto di Le Castella, sempre ad Isola Caporizzuto, dove è in corso l'esame esterno da parte del medico legale. Al momento, quindi, secondo i dati forniti dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Crotone, i dispersi del naufragio sarebbero 11, di cui 6 minori.